Se volete acquistare credit fifa a basso prezzo andate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 5% di sconto Bene amici tra i miei ragazzi siamo tornati qui con un nuovo episodio dell'ACCITUA Del ROTTO ACCITUA E abbiamo fatto un nuovo acquisto, l'unico nuovo acquisto è questo qua Ed è Mauro Riccardi in attacco Abbiamo dato via a Dzeko perchè Dzeko veramente non si poteva guardare Inguardabile veramente seriamente Niente oggi siamo con 6 punti e mancano 6 partite alla fine perciò siamo in marcia Se con 2 vittorie saremo proprio al bacio Quindi andiamo subito a cercare la partita e speriamo di fare queste 2 vittorie che ci servono come il bread Ok ci siamo vediamo la sua squadra Sarà fortissima Ma io ho fatto è così Perin che sembra che sta a fa Oh grande c'è mezzo La prima volta che ho fatto un tiro del genere Ah ma l'ho preso No Le gambe Non so neanche come cazzo è volato questo Che non l'ho preso Con E Con E Sempre lui Porco cane vero Dai Mannaggia ho quanto ci dice male Eh vabbè dai su Sì ma non è possibile Maruti che era invisibile Ma che gli passa attraverso il pallone Cioè non è possibile sta cosa che fa un passaggio e si ritrova in porta Ho cominciato pure alla gamma Capitosca Ho pensato che c'era l'iPhone vicino Fa solo questo torna solo indietro questo eh Avrebbe dire Amsic Io spero che tiri Amsic No dirai Yaij L'ho fatto io sta volta L'ho fatto io Che cazzo Dopo due stagioni di roto è riuscito a segnare punizioni C'è sempre te E grazie al cazzo Le faccio le punizioni io Un'acce Un'acce Oh Dio Oh Dio ha segnato non c'è credo Non c'è crede manco lui Un'azzie skin No eh Questo fa solo questo Fa solo questo Torna indietro passa e segna Perché non gliela leva Perché non gliela leva Perché se tu lo spingi così È rigore Cioè capisci sto gioco com'è Si segna solo In questo momento lo dirisco rigore Piuttosto che fanno segnare Io subito Fallo Dai Che cazzo Perché se lo diri sotto la traversa Devi morire Devi morire Te pare Te pare E' lui E' fallo Si si Fallo per lui Ma hai i gambe in mezzo Tranquillo Sempre fallo per lui Si la pia la pia la pia Ho capito Mettila a mezzo Non c'è sta nessuno Tu buttacela Vabbè no Adesso Passala Sì Oddio Che deviazione di culo Mi sono rotto Mi rigioco 3 a 3 Vabbè un paio di giochi Ragazzi ci può stare Perché tanto per vincere il titolo Ci vogliono 13 punti Quindi va bene come pareggio Va benissimo Da adesso servono due vittorie Con due vittorie Abbiamo vinto il titolo Perciò Ah porco di Mi so C'è una noccia Come? Por dico E' un genio Niente andiamo subito La prossima partita Allora ragazzi Sta squadra si chiama Homme e merda E' da Juve Penso che voi napoletani Adesso state odiando questa persona Perché napoletano da Juve E' veramente scandaloso È abbastanza Comunque questa è la sua squadra E' battibile Noi abbiamo La carta siamo più forti Noi abbiamo E' una squadra migliore Davanti c'è il tridente delle meraviglie Gerviglio Riccardi Salah Centrocampo c'è Amsic Abbiamo rimesso Bruno Perez Perciò abbiamo la squadra migliore possibile Esatto Solo Ludicare forse non c'è Guardalo Ma come fai a non fermare Zazza? Cioè forse non si rendono conto De quando fanno i giocatori Che è Zazza Cristo oddio Che dici di sedia? Segnaconda Comunque vedi che l'onda è mancino L'ha segnato No va bene dai Cazza affatto Zazza è un fenomeno regà Oh Ma tu premi il cerchio Certo che lo premo Che cazzo Che non gli fa manco una spallata E se prima ha premuto il cerchio Gli ha sfischiato il fallo Cioè Cioè lo premo non è Che posso premere sempre Perché se no poi Casca e gli ti ha fallo Vabbè Fai la Zazza e si abbracciamo Oh porco cani Ok Insala Mohamed 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 Entra dentro Entra dentro Che cazzo Loro scivola Prendono sempre Provo a metterla dentro No Hai proprio tirato male Ma davvero? Non l'hai scivolato Sì Sì fallo ti prego Oh vabbè No no Non c'è credo Che sei così storto Non c'è voglio crede C'è credo Che guzman Giusto È la stessa identica punizione Era para para uguale La botta Ma chi c'ha in porta? Ma che cazzo Ne so Che è? Un rigioco Dai Ho proprio al centro Ma hai visto? Non hai visto dammela Ti prego La dossi che cazzo Faccio tiro No No Oddio 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 No No scherzi Ma che è vera Stapartita o sta scherzando? Scherzi Perché sta là? È la stanza dei guardi No vabbè Ti prego l'interveniente e tira Ah no No Annaggia Dunque io penso Abbiamo fatto Non so quanti tiri Questo è un po' stupido comunque Continua a Fa sta cosa Ah dietro L'antata No vabbè Vai fallo Ah vabbè Ricardi sei stupido Che cos'era? No dove andrà subito Ma è che è ancora tua? Che cosa fai? Perché? Non si riesce al sistema bene Ah perché sa là Tira a destra Vabbè sei un coglione Non riuscivo a segnare Ho capito No siamo proprio stronzi Che è diverso Oh mo sai che faccia La parcia La passo subito Il filtrante Non scommetti Che non la passa più Eh vabbè Deve far giro È diventata una comica Sta partita Porco droga Porco droga Non male Pessami a troppo Annaggia Porco puttano Sono un ciamoncino Oh Porco droga Voglio far fancy shot No ma te No Tira No 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 Non è possibile Che sei così storico Non ho tirato di precisione Quello è bello Non lo faccio adesso Mamma mia che cazzo Eh Cadroio C'è una tanto Ma che cazzo Mi sono lasciato No 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 Dele spalla Icardiii Sì? 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 Mi senti come si fa Icardiii 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 È una pippa Icardi È una pippa Sì Voglio vedere Dzeko Quando cazzo lo faceva A me è messa pure sul cazzo Icardiii Dai che questo è stupido Dai che lo famo stavorta Vaffan Porco d***o Oddio che cazzo Cioè ti giuro Ho uno sdraià da prima È rosso questo eh No non è rosso Non è mai rosso È giallo Mamma mia Mamma mia Tutto è partito Perché tu dovevi avvicinare il giocatore Vaffanculo Guarda Icardi Pezzote qua Bravo Finisce qui Rimontata Questa è la seconda partita Sì Pareggia una vittoria Stavolta Dai 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 Sei va avanti Raga sta andando bene Il prossimo episodio Se facciamo una vittoria Si comincia subito Con la ottava divisione Yes Dai così Dai Lasciamo un like per questa situa Che finalmente È convincente E la squadra comincia a formarsi anche Guarda è l'unico che ho fatto Lasciami like E ci vediamo al prossimo episodio La C2 Continuate a consigliarci i giocatori Come è bella Bella E come bella E come bella